Abbiamo visto la lettera di Monti di replica a Repubblica. C'è anche chi ha scritto al Financial Times per protestare contro un accostamento certo non gradito. È Beppe Grillo che era stato accostato a Mussolini. A lui che aveva gridato o me o il fascismo, a lui che vorrebbe vedere abolito il reato di vilipendio, a lui che aveva dato a Monti del dittatore suo malgrado, a lui a Beppe Grillo sentirsi dare del Mussolini gli deve essere ora rimasto proprio lì. Non che sia la prima volta del reazionario, dell'uomo di destra, del fascista, glielo avevano già dato e così anche del caudiglio come il dittatore Franco, ma stavolta l'attacco al Movimento 5 Stelle, indicato ora dai sondaggi come addirittura il secondo partito italiano, un po' diverso è non tanto per l'autore dell'articolo Beppe Severnini, roba di casa nostra, ma per l'attestata che l'ha ospitato il prestigioso Financial Times, attraverso il quale si cercava di spiegare agli anglosassoni il fenomeno politico italiano del momento. Inquadrato sulla scia di Berlusconi e Bossi, spettacolo, empatia, comunicazione unidirezionale e stretto controllo del partito, e per estensione retroattiva quindi quasi in automatico a Mussolini appunto, vista la propensione degli italiani a consegnarsi, secondo Severnini, ad un leader forte. L'irresistibile richiamo della storia? Un azzardato ricorso alla famosa teoria del passato che aiuti a spiegare il presente, un gusto estremo per la semplificazione, quello che si vuole, ma resta il fatto che stavolta Grillo, pure abituato ad incassare epiteti di vario tipo e che non ha mai nascosto la stima per il giornalismo extra-italiano, di fronte a questa accusa ottenuta in trasferta, che evidentemente per lui vale doppio, non ha riuscito a fare finta di nulla. Ed ecco quindi arrivare puntuale, no semmai indifferita, dopo una settimana la risentita risposta per lettera direttamente al quotidiano londinese. Essere paragonato ad un dittatore è un oltraggio, ha scritto Grillo, che ha parlato anche di deliberato attacco al movimento democratico che io rappresento e che attraverso la trasparenza e la partecipazione persegue solo un obiettivo, quello della democrazia diretta contro la partitocrazia.